Il gioco è un pochino naif ed ecco vediamo questo pallone dato a Francescano, fantastico la fuga di Francescato e fantastica ancora la conclusione, l'epilogo, siamo al terzo minuto, è una meta favolosa di Ivan Francescato della stirpe di Francescato, 24enne, come vedete, una meta alla campese possiamo definirla, vedete, ecco qui è la ripetizione dell'azione raccoglie questo passaggio al volo di Favaro, poi sfugge a due, tre, quattro avversari e con una serie di cambi improvvisi irresistibili di direzione mette fuori causa